Padiglione B3L, stand C16 e dove Wide, in questi giorni di Festo Hamburgo, terrà i contatti con tutti coloro che verranno in fiera e quindi potranno passare in questo stand a trovarci e coloro che non verranno o nei giorni in cui non ci saranno perché li terremo aggiornati con i nostri video che ormai Stratevo Group da qualche tempo è abituato a fare per i propri lettori. Oggi è la prima giornata di fiera, sono qua con Paola. Paola oggi che giornata sarà? Cosa ci sarà? Oggi noi seguiremo delle conferenze stampa, abbiamo Enchi, Mimati, HP e Canon che annunceranno probabilmente delle interessanti novità tecnologiche. Infatti pare una fiera molto ricca questa, quindi dopo le conferenze stampa visiteremo comunque gli stand per raccontare le notizie che, come sapete, nell'arco delle quattro giornate per cui trasmetteremo questa trasmissione potremo raccontarvi. Buon viaggio per chi è in viaggio, buona visita in festa per chi è già in festa e buona preparazione nel viaggio per chi si sta preparando.